voi non avete capito, per meglio dire non volete capire che cosa significa la seconda F voi state giudicando degli onesti galantuomi che i pezzi della vicepreside vogliono bocciare per capriccio se solo un galantuomo di noi sarà bocciato voi salterete in area, sarete distrutti, sarete scannati come pure i vostri familiari e chi so caccia spara una pallandista, a lui e a lei è pure a so ma me lo dici che ammichia ci stiamo aspettando tanto così, tanto così, e lì fa un vicinio non sapezzato, lo chiamo tutto quello del Cristo ma che paura lo dici tu, qua va a vivere, qua va a morire, è così, va a dare il nostro vuoi scannare un cristiano? ammazzava anche questo senza l'autorizzazione della commissione succede un casino Totò dobbiamo fare da soli, se ci mettiamo pure a discutere col palermitano il sangue non è così facile, e ste sberre ne mangiano vivi questo significa che scoppio lancia guerra, lo sai vero? e noi ci faremo trovare cose per me sei come la televisione per me sei come la televisione io ti guardo guardando la vita tua guardando la vita tua io ti ricordo che ho fatto bene a scegliere l'Italia e noi ci faremo trovare cosa sarò? eh, lei non la... si, non la parola, non c'è così Totò quello deve morire che solo non lo fai tu, ci penso io ma che paura lo dici tu? qua va a vivere, qua va a morire, è così, va ad eterno grazie a tutti